Condannati rispettivamente a 12 anni e 10 anni di reclusione, Antonello D'Ambrosio e Giovanni Aluotto, i due ragazzi che nella notte tra il 10 e l'11 agosto scorso accoltellarono il 35enne Florigi Cantalupo, riducendolo in fin di vita. Il fatto avvenne in via Bovio, nel pieno centro cittadino di Agropoli, in seguito ad una banale lite dovuta alla rottura di uno specchietto retrovisore. Ad emettere la sentenza è il giudice Sergio Marotta del Tribunale di Vallo della Lucania. D'Ambrosio e Aluotto sono stati condannati per tentato omicidio in concorso ed è stata fissata dal giudice una provvisionale pari a 100.000 euro, a titolo di risarcimento per le parti civili. Accolte quindi le richieste del PM Ivan Aniglio della Procura Vallese, in particolare per quanto riguarda la premeditazione aggravata dai futili motivi, con i legali difensori dei due giovani, gli avvocati Antonello Cammarano e Francesco Verderosa, che hanno già preannunciato ricorso in appello, sostenendo la tesi dell'offesa di impeto nei confronti di Florigi Cantalupo. I due ragazzi, rei di quanto accaduto all'epoca, furono rintracciati nel giro di poche ore e arrestati dai carabinieri della compagnia di Agropoli, diretta dal capitano Francesco Manna. Per giorni invece le condizioni di Cantalupo furono gravi e fu ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il 35enne subì quattro fendenti, uno alla gola, uno all'addome e due alle spalle, riportando anche un grave ematoma alla testa, dovuto ad una caduta per il quale fu sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.